Mozzarella, caciocavallo e anche vino per chiudere un occhio su violazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro in un'azienda di Torre Maggiore in provincia di Foggia, ma anche controlli soft in un cantiere edile di Vieste per ottenere in cambio l'assunzione del figlio nella marina militare. Sono alcuni degli episodi di cui sarebbero protagonisti tre dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro di Foggia coinvolti nell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari personali nei confronti di pubblici ufficiali, consulenti e medici. Dovranno rispondere dei reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e la fede pubblica. Le indagini della Guardia di Finanza di Foggia sono scattate nel mese di settembre del 2016, si sono concluse nel mese di giugno del 2017 e sono state coordinate dalla Procura della Repubblica.